Si chiama Comunica Teramo, è un'applicazione sviluppata dal comune scaricabile da subito su Apple Play Store che mette in contatto diretto i cittadini con l'amministrazione. Legata adesso all'emergenza sanitaria del coronavirus, l'app sarà utilizzabile per comunicazione sui servizi comunali. A presentare l'iniziativa è stato assieme al sindaco Gianguido D'Alberto, il vice sindaco e assessore alla protezione civile Giovanni Cavallari. Da oggi possiamo scaricare da qualsiasi smartphone l'applicazione Comunica Teramo che ci renderà tutti i cittadini di Teramo più sicuri e direttamente collegati all'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale attraverso quest'app potrà informarvi di tutte le situazioni che si verificano all'interno del nostro territorio e vi potrà mettere, diciamo, potrà attraverso una scala dei rischi che sono inseriti all'interno di quest'app per identificare il pericolo. Quindi dal verde, dalla quotidianità al giallo, all'arancione e al rosso che sarà l'allarme, diciamo, più preoccupante, andremo tecnicamente ad informare i nostri concittadini. Arriveranno le nostre comunicazioni che saranno notificate se ovviamente ogni singolo cittadino consentirà la notifica. A questo si aggiunga anche la geolocalizzazione che tecnicamente servirà laddove una persona si dovesse trovare in difficoltà a geolocalizzarla attraverso un sistema GPS che è stato inserito all'interno dell'app. Tutto questo mi sembra un passo verso il futuro. Ma oltre all'innovativa app è stato presentato anche il nuovo piano di protezione civile. L'aggiornamento del piano di protezione civile che è stato ovviamente reso più conforme al periodo che stiamo vivendo. Quindi sono stati aggiornati tutti i rischi, sono state cambiate delle planimetrie. È stato veramente un lavoro certosino fatto dal quinto settore insieme ovviamente a me e al geologo che è stato incaricato dall'amministrazione comunale. In questi giorni lo abbiamo avuto poiché l'app che abbiamo predisposto, Comunica Termo, che invito tutti i cittadini a scaricare nel più breve tempo possibile, tutte le schede, tutti i rischi connessi al piano di protezione civile sono stati inseriti all'interno dell'app. e quindi ogni cittadino attraverso l'app potrà conoscere, potrà vedere uno stralcio diciamo molto ridotto del piano di protezione civile.